Autorità portuale, il commissario Monti visita le strutture e visita informale questa mattina in Capitaneria di Porto per il commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti e del sottosegretario Giancarlo Cancelleri. Al tavolo della Capitaneria sono stati esposti i principali problemi legati alla portualità gelese a partire dalla necessità di intervento al porto rifugio. Al termine della riunione la delegazione è andata a visitare le due strutture portuali cittadine. Progreco lunedì vertice, sindaco apre ad incontri la crisi interna. La maggioranza del sindaco Lucio Greco non è affatto superata. Lunedì i consiglieri di maggioranza si metteranno intorno al tavolo per verificare se ci sono le condizioni per superare le tante distanze. Il consigliere di liberamento Vincenzo Casciana ha concluso il mandato esplorativo. L'avvocato greco intanto ha incontrato forzisti e civici. In comune solo con Green Pass arriva l'obbligo per i dipendenti. Dal prossimo 15 ottobre tutti i dipendenti, anche quelli delle controllate, chi opera con altre funzioni potrà accedere e lavorare negli uffici di Palazzo di Città. Solo si avrà a disposizione la certificazione verde, un obbligo che si manterrà fino al 31 dicembre. Una direttiva che arriva direttamente da Roma e che il comune dovrà necessariamente applicare. Senza la copertura del Green Pass i dipendenti risulteranno assenti ingiustificati, senza poter ottenere retribuzione. Ad oggi si stima che siano circa una cinquantina i dipendenti comunali che per motivi di salute o ideologici non si sarebbero sottoposti a vaccino. Campagna nastro rosa, AERC accende il municipio, parte la campagna di prevenzione contro il tumore al seno che, malgrado i progressi, ogni anno continua a colpire circa 55.000 donne, una su otto nell'arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile. In molti comuni d'Italia le facciate del municipio saranno illuminate di rosa, come accadrà per Palazzo di Città. Alle 19, l'AERC e il sindaco greco hanno lanciato un appello per la prevenzione. Blitz, Cleandro, condanne da confermare. Sono tutte da confermare le condanne che a inizio anno sono state pronunciate nei confronti del boss Salvatore Rinsiville e dei suoi presunti complici coinvolti in un traffico di droga che avrebbe avuto basi logistiche anche fuori dall'Italia. Ieri la Procura Generale ha avanzato le richieste nel corso del giudizio d'appello. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Visita informale questa mattina in Capitaneria di Porto del commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti e del sottosegretario Giancarlo Cancelleri. Al tavolo della Capitaneria sono stati esposti i principali problemi legati alla portualità gelese, a partire dalla necessità di intervento al portorifugio. Al termine della riunione, la delegazione è andata a visitare le due strutture portuali. Sentiamo. Prima un incontro in Capitaneria di Porto, poi la visita al portorifugio e al portoisola. La prima volta di Pasqualino Monti, commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale in città, è stata caratterizzata sia dagli inevitabili incontri istituzionali, ma anche e soprattutto dall'osservazione diretta delle strutture portuali locali e delle loro criticità. Ad accompagnarlo il sottosegretario delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che già nella visita dello scorso 3 settembre, quando venne ufficializzato l'ingresso di Gela nell'autorità portuale di Palermo, aveva promesso di portare Monti in città il prima possibile. Il commissario è arrivato in Capitaneria in tarda mattinata, accolto dal comandante Giuseppe Donato e dai parlamentari regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle e del PD. Presente anche il sindaco Lucio Greco, il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sammito, oltre che i rappresentanti dei diportisti e dei pescatori. Al tavolo della Capitaneria sono stati esposti i principali problemi legati alla portualità gelese, a partire dalla necessità immediata di intervento al portorifugio, bloccato non solo dalla sabbia ma dalla mala burocrazia di questi anni. Dopodiché l'intera delegazione si è spostata sulle due strutture portuali locali. Nessuna dichiarazione ufficiale di Monti alla stampa. Parlerò non appena partirò ufficialmente con il mio lavoro, ha detto. Ha parlato invece il sottosegretario Cancelleri, che ha sottolineato l'importanza della presenza del commissario in città. Oggi stiamo facendo una visita dei luoghi attenta, dopo una presentazione dei servizi che ci sono, e soprattutto dopo aver appreso le criticità direttamente dagli attori principali, quindi da tutti coloro che si svolgono attività all'interno del porto. Questa mattina prendiamo visione anche dei luoghi, Porto Isola, Porto Rifugio, un breve incontro con i pescatori e con tutti coloro che hanno le attività all'interno del Porto Rifugio. Dopodiché si apre un tavolo tecnico permanente, il Presidente Monti l'ho visto già molto determinato. Si parte, si parte con la speranza che sia la volta giusta e soprattutto con la grande consapevolezza che abbiamo tutti insieme una responsabilità, dobbiamo ognuno di noi fare il nostro ruolo. Credo che l'amministrazione comunale, credo che la deputazione regionale nazionale del territorio comunque la vedo ben motivata e questo fa ben sperare. Adesso dobbiamo solo raccontare una buona pagina di politica e di amministrazione per risolvere un problema che onestamente è diventato davvero una grande vergogna. Inevitabile fare riferimento all'inizio dei lavori al Porto Rifugio, troppo spesso annunciati dalla politica, ma mai realmente partiti sull'argomento cancelleri e netto. Non diamo date perché non è serio dare date, anche perché in passato qualcun altro ha dato fin troppe date che poi sono state, io voglio venire qui facendo partire i lavori il giorno prima e il giorno dopo dicendo che i lavori sono partiti ieri. Questa è l'unica serietà che oggi possiamo accettare e dobbiamo dire ai cittadini. Quindi nel più breve tempo possibile cerchiamo di rimettere a posto le cose. Il totale dei positivi al Covid scende a 127 positivi. I numeri del contagio Covid in città continuano ad essere i minimi. Nelle ultime 24 ore solo due nuovi casi in isolamento domiciliare. i guariti sono nove, non si registrano nuovi ricoveri. La crisi interna alla maggioranza del sindaco greco non è affatto superata. Lunedì i consiglieri di maggioranza si metteranno intorno a un tavolo per verificare se ci sono le condizioni per superare le tante distanze. Il consigliere di liberamente Casciana ha concluso il mandato esplorativo. L'avvocato greco intanto ha incontrato forzisti e civici. Sentiamo. La bufera politica che si è abbattuta sulla maggioranza del sindaco Lucio Greco non volge certo al sereno ma un primo spiraglio per evitare la rottura definitiva potrebbe man mano aprirsi. Ieri il consigliere comunale di liberamente Vincenzo Casciana è incaricato di verificare le condizioni per ripartire ha concluso il giro di consultazioni interne ai pro greco. Lo stesso Casciana tra i più critici sull'attuale linea greco ha spiegato che le distanze ci sono tra alleati ma si tenterà di superarle o comunque di comprenderle fino in fondo. I consiglieri di maggioranza lunedì si metteranno intorno ad un tavolo per capire come poter andare avanti senza strappi politicamente traumatici. Poi riferiranno all'avvocato greco. Il sindaco però sta assondando le posizioni dei suoi. Mercoledì dopo giorni di polemiche molto pesanti ha avuto un colloquio con i forzisti che più volte hanno rivendicato maggiore attenzione e un peso superiore negli equilibri di giunta. Punti che pare sono tornati a ribadire nonostante il caso scaturito dallo scontro tra l'assessore Nadia Gnoffo e il gruppo di un'altra Gela. Non ci sono stati sviluppi particolari anche perché fino al chiarimento complessivo in giunta potrebbe non mutare nulla. Ieri sera proprio i consiglieri di un'altra Gela i civici della prima ora di una buona idea hanno incontrato il sindaco. Un punto l'hanno confermato. Nessuno spazio a cambi in giunta o al secondo assessorato di Forza Italia. Prima di tutto infatti i civici vogliono che si testi l'effettiva tenuta dell'alleanza che dovrà passare anche dall'incontro di lunedì. Qualsiasi inatteso cambio di programma potrebbe essere interpretato come la definitiva rottura della fiducia politica. Anche l'opzione dell'azzeramento in questa fase rimane in stand-by. I progreco cercheranno di non far fallire l'originario progetto arcobaleno anche se dopo oltre due anni tutto sembra cambiato. La contesa va avanti da anni da quando il Comune ha deciso di lasciare la struttura dell'Opera Pia Pignatelli-Roviano. Vicende che sono finite davanti ai giudici civili. I responsabili dell'Opera Pia ritengono che Palazzo di Città debba risarcire danni che sarebbero stati causati alla storica struttura usata per ospitare uffici e sedi di associazioni. Tutto considerato a carico del Comune che aveva estaurato il rapporto contrattuale con l'ente. Già due anni fa venne avviata una prima procedura anche con consulenze tecniche. Di recente un nuovo ricorso legale dell'Opera Pia Pignatelli è stato notificato in Municipio con un'udienza fissata a dicembre in base al valore delle richieste risarcitorie e si valuta che l'ammontare non sia inferiore ai 600.000 euro. Dal prossimo 15 ottobre tutti i dipendenti comunali e anche quelli delle controllate e chi opera con altre funzioni potrà accedere e lavorare negli uffici di Palazzo di Città solo se avrà a disposizione la certificazione verde un obbligo che si manterrà valido fino al 31 dicembre. Una direttiva che arriva direttamente da Roma e che il Comune dovrà necessariamente applicare. Senza la copertura del Green Pass i dipendenti risulteranno assenti ingiustificati senza poter ottenere la retribuzione. Ad oggi si stima che siano circa una cinquantina i dipendenti comunali che per motivi di salute e ideologici non si sono ancora vaccinati. In Comune, solo col Green Pass la disciplina normativa predisposta dal Governo inevitabilmente inizierà a prendere piede anche a Palazzo di Città. Il segretario generale dell'Ente Loredana Patti ha diffuso una nota destinata a tutti i settori e gli uffici dell'Ente dal 15 ottobre tutti i dipendenti anche quelli delle controllate e chi opera con altre funzioni potrà accedere e lavorare negli uffici solo se avrà a disposizione la certificazione verde un obbligo che si manterrà fino al 31 dicembre sono esentati solo quei dipendenti che per patologie non possono accedere alla vaccinazione. Senza la copertura del Green Pass i dipendenti risulteranno assenti ingiustificati senza poter ottenere la retribuzione saranno organizzati controlli e verifiche in sostanza il segretario generale conferma che non ci sarà spazio per chi Novax o meno abbia scelto di non vaccinarsi contro il Covid una direttiva che arriva direttamente da Roma e che il Comune deve necessariamente applicare ad oggi si stima che siano circa una cinquantina i dipendenti comunali che per motivi di salute o ideologici non si sarebbero sottoposti al vaccino. L'obbligatorietà del Green Pass è steso anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre dovranno essere in possesso del Green Pass questo non lo stabilisce il sindaco della nostra città non lo stabilisce l'amministrazione ma è un decreto legge del Consiglio dei Ministri del 15 settembre per cui è necessario essere in possesso del Green Pass è fondamentale ovviamente nel contempo verrà potenziato il sistema di screening e di tracciamento del virus. In molti alla notizia e alla direttiva hanno già cambiato idea hanno provveduto a sottoporsi alla prima dose altri rimangono scettici aspettano il 15 ottobre nell'attesa che cambi qualcosa l'amministrazione intanto mira la sensibilizzazione di chi è ancora arrestito alla vaccinazione anche attraverso incontri mirati. A prescindere da queste disposizioni di legge è giusto che il cittadino si sottoponga a vaccino per tutelare se stesso e chi gli sta accanto oggi possiamo veramente approcciarci alla normalità e intravedere un po' l'allentamento delle restrizioni grazie a tutti quei cittadini che si sono sottoposti a vaccino quindi l'invito è perché oggi veramente ci stiamo trovando ad approcciarci alla normalità quindi continuate a vaccinarvi è importante chi lo ha fatto lo ha fatto responsabilmente e chi ad oggi non si è vaccinato può godere di benefici grazie a chi si è vaccinato fatelo anche nel rispetto di tutti quei medici degli infermieri di tutto il personale sanitario che è stato in trincea e ancora oggi è lì a battersi per voi per noi e per la nostra salute. Ci spostiamo a Niscemi dove è stata finanziata con oltre 2 milioni di euro la ristrutturazione dell'immobile che ospiterà la nuova sede del commissariato di polizia di Niscemi in provincia di Caltanissetta lo ha deliberato il governo musumeci nell'ultima seduta di giunta accogliendo le istanze provenienti dal prefetto Niscemi e dal questore condivise dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale l'attuale sede del commissariato infatti è inadeguata e sottoposta a procedure di sfratto il rappresentante dello Stato e l'amministrazione comunale hanno individuato un edificio del comune in piazza Gaetano-Scirea come possibile nuova sede ma servono interventi di adeguamento Parte la campagna di prevenzione contro il tumore al seno che malgrado i progressi ogni anno continua a colpire circa 55 mila donne una su otto nell'arco della vita confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile in molti comuni d'Italia le facciate del municipio saranno illuminate di rosa come accadrà a Palazzo di Città alle 19 l'AIRC e il sindaco greco hanno lanciato un appello per la prevenzione sentiamo Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno in tutto il mondo il simbolo è quello di un nastro rosa incompleto che rappresenta l'urgenza di trovare nuove cure per le donne colpite dalle forme più aggressive della malattia questa sera dalle 19 il Palazzo di Città si illuminerà di rosa per lanciare anche un appello come ha sottolineato la fondazione AIRC che quest'anno diventa ancora più urgente a causa dell'emargere degli effetti della pandemia da Covid-19 sui programmi di screening non è un caso che il Palazzo di Città si colorerà di rosa proprio per richiamare l'attenzione e far sì che le persone possono capire ancora di più e ancora meglio l'importanza della prevenzione perché la giusta prevenzione a volte può salvare la vita e può essere sicuramente utile perché le patologie si aggravino ulteriormente oggi la sfida è tutta centrata sull'urgenza di trovare nuove cure per chi deve affrontare le forme più aggressive del tumore al seno che colpisce soprattutto in giovane età e il carcinoma mammario metastatico che riguarda circa 37.000 donne solo nel nostro paese si parla addirittura di 55.000 donne che si ammalano ogni anno i ricercatori hanno fatto tanto la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali perché hanno portato all'87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di questa malattia quindi è importante aiutare il ricercatore sostenere la ricerca noi quello che facciamo per quanto riguarda prevenzione oltre alla prevenzione per il tumore al seno facciamo prevenzione anche con i giovani andando nelle scuole adesso in mese di novembre inizieranno gli ingondri come tutti gli anni con i ragazzi delle scuole superiori per tutto il mese di ottobre AIRC diffonderà informazioni e consigli sul sito nastrorosa.it anche il consiglio comunale farà la sua parte come conferma il presidente Salvatore Sammito chiederò ai consiglieri comunali che sicuramente faranno loro la mia proposta di illuminare di rosa l'aula consigliare durante il mese di ottobre per tutte le sedute che faremo da domani in avanti è un accaso sul Bavaro alla giacca la spilletta dell'AERC una spilletta che sarà presente sulla sua giacca su tutti i consigli comunali del mese di ottobre sicuramente sì mi sarà donata dall'associazione che io ringrazio vivamente e terrò questa spilletta durante tutto il mese di ottobre perché se il consiglio è vero come è vero che il consiglio comunale viene eseguito da molti cittadini portare questa spilla per sensibilizzarla è un atto dovuto alla gente alla città e a chi opera in questo settore determinante per far sentire il proprio sostegno alla fondazione e alla ricerca ogni contributo economico volontario è un passo in più verso la sconfitta della malattia e può essere effettuato in molteplici modi scegliendo le spillette Nastro Rosa AIRC disponibili a 2 euro nelle farmacie e nei punti di distribuzione indicati su nastrorosa.it o effettuando una donazione con carta di credito su nastrorosa.it Diamo l'appuntamento alle 19 stasera qui a Piazza Municipio avanti il Palazzo di Città che si colorerà di rosa all'insegna ripeto della giusta e buona prevenzione per la salute e la vita delle persone Sui ripristini delle strade dopo gli interventi questa volta per la posa della fibra ottica vanno fatti miglioramenti in via Bettino Craxi a conclusione dei lavori per la fibra un tratto di strada non è stata ripristinata a dovere i residenti che vivono a Modernopoli segnalano un disturbizio non è la prima volta che si verifica soprattutto a seguito degli interventi per la rete idrica quella elettrica e quella per la fibra ottica l'amministrazione comunale attraverso l'assessore Ivan Liardi di recente ha imposto verifiche e obblighi più stringenti per le società dei sottoservizi che devono assicurare standard migliori in via Craxi il ripristino non è stato effettuato come si dovrebbe sono tutte da confermare le condanne che da inizio anno sono state pronunciate nei confronti del boss Salvatore Rinzivillo e dei suoi presunti complici coinvolti in un traffico di droga che avrebbe avuto basi logistiche anche fuori dall'Italia ieri la procura generale ha avanzato le richieste nel corso del giudizio di appello sentiamo le condanne che ad inizio anno furono pronunciate dal gruppo del tribunale di Caltanissetta nel giudizio abbreviato vanno confermate la richiesta ieri mattina in corte d'appello l'avanzata la procura generale Nissena 22 anni e 2 mesi di detenzione per il 60enne Salvatore Rinzivillo considerato il nuovo boss dell'omonima famiglia di Cosa Nostra coinvolto anche nel filone Cleandro della maxi inchiesta Extra Fines per gli investigatori era capo di un'organizzazione in grado di commercializzare droga che pare arrivasse soprattutto dall'estero una delle basi logistiche sarebbe stata in Germania dove Rinzivillo avrebbe avuto l'appoggio di Ivano Martorana condannato a 18 anni in primo grado e Paolo Rosa per lui 12 anni davanti alla GUP la procura generale ha concluso per la conferma delle condanne non solo per Rinzivillo Martorana e Rosa sui quali dipende anche la contestazione di associazione mafiosa ma inoltre rispetto alle posizioni degli agrigentini che avrebbero operato in Germania in primo grado erano arrivati 9 anni di reclusione per Salvatore Gueli e Nicola Gueli assolti però dal reato di associazione mafiosa 4 anni a Mario Cassaro anche in questo caso escludendo l'aggravante mafiosa la procura generale ha concluso sostenendo la piena conferma delle decisioni di primo grado altri presunti complici sono a dibattimento davanti al collegio del tribunale di Gela la prossima settimana sarà invece il turno delle difese che hanno impugnato le condanne gli imputati sono rappresentati in giudizio degli avvocati Roberto Afeltra Salvatore Pennica Lillo Fumo e Alfonso Neri Butera celebra il settimo centenario della morte del poeta Dante Lighieri e i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi si comincia stasera alle 19 con l'intronizzazione delle reluquie di San Francesco e Santa Chiara e l'accoglienza del simulacro di Sant'Antonio con la teca ex corpore proveniente da Padova lunedì alle 20.30 il gruppo giovanile Amici di Chiara e Francesco presenteranno il musical L'amore quello vero di Giampaolo Belardinelli Pietro e Achille Oliva con regia di Giuseppe Barresi sarà presente anche una delegazione di Cavalieri Templari e i poveri Cavalieri del volto di Santo Gela Prima dell'avvio del nuovo servizio dei rifiuti in città necessaria l'iscrizione delle impianti SRR nell'albo nazionale dei gestori ambientali la procedura piuttosto articolata non è stata ancora chiusa i vertici della società hanno dovuto prendere atto delle dimissioni del professionista incaricato a seguire l'iter l'amministratore delle impianti ha assegnato un ulteriore incarico Sentiamo Una precondizione imprescindibile prima della partenza del nuovo servizio rifiuti in città e negli altri comuni dell'ambito è l'iscrizione della impianti SRR all'albo nazionale dei gestori ambientali e un requisito imposto alle società che devono operare nei servizi pubblici la procedura è stata avviata da alcuni mesi ma i vertici della impianti che dovrà gestire in ausil servizio rifiuti e già si occupa della piattaforma di Timpazzo hanno dovuto prendere atto delle dimissioni del professionista nominato per portare avanti tutti gli adempimenti l'ingegnere Roberto Bevilacqua ha rinunciato e l'amministratore delle impianti l'ingegnere Giovanna Picone ha provveduto ad individuare la società Arcade SRL con il direttore tecnico l'ingegnere Salvatore Dolce sarà il professionista palermitano a curare la procedura per arrivare all'iscrizione della società in aus della SRR4 all'albo nazionale sia nella categoria 1C che riguarda la raccolta rifiuti nei comuni con meno di 100.000 abitanti ma superiori o uguali a 50.000 sia in quella 1D per centri con popolazione inferiore a 50.000 abitanti il cronoprogramma per Gela con l'avvio del nuovo servizio difficilmente potrà essere completato entro l'anno e il sindaco Lucio Greco ha già concesso un'ulteriore proroga a Tecra fino al prossimo novembre la impianti SRR da tempo ha iniziato a procedere per l'acquisto dei mezzi e ci sono stati incontri anche con i sindacati l'iscrizione all'albo dei gestori deve però essere completata e diventa fondamentale prima dell'avvio del nuovo servizio giunge la quarta giornata il campionato di promozione che vede protagonista il Gela Football Club domani alle 15.30 i gialloni ridisputeranno una partita contro il calcio Scicli verso lo stadio di Modica dopo la delusione per il pareggio di 3 a 3 di domenica scorsa contro il Modica domani pomeriggio per la squadra di Evola si prospetta la difficoltà di un campo in terra abbattuta formazione confermata ma oltre a Iannizzotto e Romano che continuano a non poter essere presenti la squadra dovrà affronteggiare anche l'assenza di San Martino uscito infortunato dall'ultima partita rientrano invece Tomaino Ruscica e Messina domani pomeriggio a Sortino il Gela C5 disputerà la seconda partita del campionato in serie C2 il quintetto allenato da Enzo Feconda affronterà alle 17 il città di Sortino si riconferma la formazione schierata per la precedente partita unico giocatore assente Capizzello era la nostra ultima notizia il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito Grazie per averci seguito